Era tutto molto bello su quella scaletta, io ero grande con quel bel capotto, facevo il mio figurone, non avevo dubbi che sarei sceso, non è quello che vidi che mi fermo, è quello che non vidi, puoi capirlo, è quello che non vidi. In quella sterminata città c'era tutto tranne la fine, c'era tutto, ma non c'era una fine, quello che non vidi è dove finiva tutto quello, la fine del mondo. Tu pensa a un pianoforte, i tasti iniziano e finiscono, tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti, loro non sono infiniti, tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita, questo a me piace, in questo posso vivere, ma se su quella scaletta davanti a me si srotola una tastiera con i tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, non finiscono mai, quella tastiera è infinita, ma se quella tastiera è infinita, lì non c'è musica che puoi suonare. Sei seduto sul seggiolino sbagliato, Max, quello è il pianoforte su cui suona Dio, Cristo, ma ne vedevi le strade? Ce n'erano a migliaia, ma come fate voi altri laggiù a sceglierne una? A scegliere una casa, una donna, una terra che sia la vostra, un paesaggio da guardare, un modo di morire, tutto quel mondo addosso che nemmeno sai dove finisce e quanto ce n'è. Ma non avete paura di finire mille pezzi solo a pensarla, a viverla, quell'enormità? Io sono nato su questa nave, anche qui il mondo passava, ma non ha più di duemila persone per volta. E i desideri c'erano, ma non più di quelli che ci potevano stare su una nave, tra una prua e una poppa. Suonavi la tua felicità, su una tastiera che non era infinita. Io ho imparato di vivere così. La terra è una nave troppo grande per me. È una donna troppo bella, un profumo troppo forte, è un viaggio troppo lungo, è una musica che non so suonare. Non scenderò dalla nave.